Giorgia Meloni e Matteo Salvini si incontreranno oggi pomeriggio 29 settembre negli uffici del gruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, secondo quanto riferiscono fonti parlamentari del centrodestra Non sarà invece presente alcun esponente di Forza Italia al faccia a faccia tra la leader di FD e il segretario della Lega Il leader azzurro, Silvio Berlusconi in questo momento si trova ad Arcore ma non è escluso che possa sentirsi telefonicamente con gli alleati Ieri 27 settembre, la Meloni ha ricevuto negli uffici del partito Antonio Tajani, coordinatore di Forza Italia Anche lui si trova con il Cavaliere a Villa San Martino L'incontro tra Giorgia Meloni e Matteo Salvini, il primo dopo la vittoria del centrodestra alle elezioni, servirà per fare il punto sui prossimi passi che la coalizione deve affrontare, come l'elezione dei presidenti della Camera e del Senato, e stabilire il metodo per la definizione della futura squadra di governo Con ogni probabilità i due leader oltre al metodo per stabilire la formazione dell'esecutivo parleranno anche dei nomi dei papabili ministri Punto a dimostrazione che il clima tra gli alleati è sereno la Meloni In riferimento ad alcune ricostruzioni giornalistiche, la stampa e la Repubblica, secondo le quali la presidente Edifdi avrebbe posto un veto sulla presenza di Salvini al governo in incarichi chiave Ha chiarito Trovo abbastanza surreale che certa stampa in venti di sana pianta miei virgolettati, pubblicando ricostruzioni del tutto arbitrarie Si mettano l'anima in pace, il centrodestra unito ha vinto le elezioni ed è pronto a governare Basta mistificazioni Anche dopo il faccia a faccia il clima non è cambiato Attraverso una nota congiunta, Salvini e la Meloni hanno fatto sapere che l'incontro si è svolto in un clima di grande collaborazione e unità di intenti Entrambi leader hanno espresso soddisfazione per la fiducia data dagli italiani alla coalizione e hanno ribadito il grande senso di responsabilità che questo risultato comporta Il leghista e la numero uno Edifdi hanno fatto il punto della situazione e delle priorità e urgenze all'ordine del giorno del governo e del Parlamento, anche alla luce della complessa situazione che l'Italia sta vivendo Grazie a tutti